Gianni Bonelli lascia la guida di SST Settelaghi con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza di mandato e fa rotta sull'Istituto Mondino di Pavia dove a breve intraprenderà il suo prossimo incarico manageriale. Prima dei saluti, il direttore generale uscente tiene a riassumere in dieci punti i principali traguardi raggiunti in questi quattro anni. Prima di tutto il contrasto alla pandemia con 7.000 pazienti e milioni di dosi di vaccino somministrate in una campagna storica, complessa e, visti i risultati finali, riuscita. Poi il futuro di Quasso al Monte, ieri Zavora, oggi opportunità con 28 milioni di euro di investimenti per trasformarlo in un istituto di ricerca per malattie polmonari. E ancora l'introduzione della chirurgia robotica e il miglioramento tecnologico delle apparecchiature, il potenziamento degli ospedali più piccoli, definiti SPOC come Luino, Cettiglio, Angera e Tradate, l'avvio dello sviluppo territoriale con una serie di servizi e strutture decentrati e condivisi, prime tra tutte le case di comunità, poi lo sblocco dei cantieri per oltre 150 milioni di euro, il nuovo assetto organizzativo e le iniziative di carattere sociale realizzate in partnership con altre istituzioni. Un esempio per tutti, la Casa della Nutrice, pronta ad accogliere, proteggere e accompagnare le donne vittime di violenza. Lascio Varese dopo quattro anni intensissimi. È stata un'esperienza professionale importante, incredibile, mi ha fatto crescere, mi ha consentito di fare delle cose molto importanti, di cui ne andrò orgoglioso e sarò per sempre grato a chi mi ha dato la possibilità di poter vivere questo periodo.